All'inizio dei tempi, in una galassia molto umana, la più umana delle galassie, otto individui dei poteri straordinari si fecero avanti e soccorrono così tutti gli abitanti di GGM. Ma tutti loro furono ingannati, perché esiste un solo signore dei paesielli e lui non condivide i modelli. Non c'è tempo per i broccoli, non ci sono latte e girelle, non c'è più il carrotorre, ci sono solo... i mega generali galattici! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche! Dammi la forza! Perfetto! Bella questa palude! Molto bella la mia palude! Fratelli della guida, amici, eroi, compagni di avventura, vi ho riunito tutti qui, oggi, perché è giunto il momento, è giunto il momento, amici miei, miei fedeli Galvorbach, è giunto il momento di onorare questa maglia, è giunto il momento, è giunto il momento del giallo! Il sangra è vita! Maestro, cosa ti domande? Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.